Ciao fragoline! Allora, finalmente vi faccio vedere i miei regali di Natale! E sono tanti, anche se l'anteprima avete visto pochissimi, però non ci stava nell'inquadratura, specialmente perché, come vedete, non riesco a farci stare neanche questi due. E adesso vi faccio vedere tutti i miei regali che ho ricevuto di Natale e niente, io direi di iniziare perché sono tantissimi e spero che questa inquadratura vi piace perché ho lasciato l'albero piccolo apposta per fare questo video e ovviamente oggi lo tolgo. Comunque, prima vi faccio vedere i miei autoregali che sono due e così almeno dietro vedete l'albero. Invece, per quanto riguarda i regali, ve li faccio vedere. Allora, prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di attivare la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. E ovviamente seguirmi su Instagram che lì sapete tutto quello che faccio ogni giorno e che qua ovviamente non pubblico quasi mai. Un like se vi piace questa tipologia e un commentino qua sotto cosa avete ricevuto voi praticamente a Natale e quale regalo vi piace dei miei. Allora, prima di tutto iniziamo con l'autoregalo enorme che è questo. Sono due orsi presi da Aliexpress, uno è fatto così, che adesso vi faccio vedere, uno è così, con le zampette così. Questo è un... non mi ricordo quanto è... ve lo lascio scritto qua di fianco così almeno sapete quanto è lungo. Uno è questo qua e invece l'altro che non ci starà mai è questo gigante uguale. Però questo è un metro uno e trenta, non me lo ricordo, vabbè ve lo scrivo qua. Comunque è grandissimo e non ci sta nemmeno in quadratura. Praticamente è uguale, cambia solo che questo è molto più grande di quello. Ovviamente mi è arrivato senza imbottitura dentro... Adesso mi metto la clip qua, che vi faccio vedere che dentro era praticamente così e l'imbottitura non c'era. Per cui ho dovuto metterla io dentro, l'ho comprata a parte su Amazon. Sì, è costato un bel po', perché dato che non c'era l'imbottitura è costato un bel po'. Però io vi consiglio, se volete prendere pupazzi enormi, di non prenderlo tipo da Aliexpress, perché poi lo dovete imbottire. Per cui vi consiglio di spendere 80 euro anche di più per comprarli così grandi, perché non ne vale se dovete imbottire... Cioè, dovete comprare a parte l'imbottitura e metterlo voi. Ovviamente c'è la cerniera qua, dove dentro ho messo tutta questa roba qua, che non mi viene il nome. E questo è il primo. Adesso lo lascio qui. Oh, allora... Allora, le luci sono accese, ma non credo che si vede. Va vabbè. Comunque, andiamo avanti, perché questo video non voglio che dura tanto e sono anche grandi. Allora, iniziamo da quelli più grandi, perché nell'inquadratura non ci saranno. Il primo che ho ricevuto è questo qua. Questa scatola qua. Campo rosso di Carli. Praticamente, dentro in questa scatola qua, vi metto la clip, che ho già aperto, ho già mangiato, eccetera. C'era dentro il panettone e lo spumante. Non mi ricordo se era brutto, credo di sì. Brutto, mi sembra. Non mi ricordo. Comunque, vi lascio qui la clip dove dentro vi faccio vedere cosa c'era in questa scatola. Praticamente. E questo è stato il mio primo regalo. Poi, secondo regalo che non ci starà mai e non so neanche se lo vedete. Adesso lo prendo. E' praticamente questo del Rubino di Casanova. E mi hanno regalato queste pintole, che ovviamente dà riflesso e non si vede. Comunque, queste pintole... E' pesante, non riesco a tenerlo. Queste otto pentole. Sì, otto pentole. Ci sono otto pezzi. Tutti diversi. Una più piccola, una più grande. E' stato un regalo molto bello. Perché, come sapete, io sto cercando casa. E allora, ovviamente, per essere portata più avanti, mi regalano queste cose qua. Ma non solo questo, ma anche altre cose. Ho ricevuto più in là che vi avevo fatto vedere. Per cui questo è il secondo regalino. Adesso vediamo se riesco... Scusate, ma è difficile quando sono un po' troppo grandi. Mamma mia! Ok, ci sto. Allora. Scusi. E passiamo alle cose più piccole. Allora, ho ricevuto questa candela. Ovviamente non vi dico chi me la redà, eccetera. Questa candela qui. Che è fatta così. Il pack è molto bello. Profuma di rosa, mi sembra. Sì. Ha un buon profumo. Questo qua mi sembra che dura... Dovrebbe durare 32. 32 qualcosa. E dato che amo le candele, mi hanno regalato questa qua. Adesso non so se si vede. Comunque... È così. Niente. Però... Mi hanno regalato. Ho ricevuto questa candela qui. Con il pack molto carino. Fatto così. Con il coperchio che adesso farò fatica. Ok. Fatta così. Adesso chiude. E poi... Ho ricevuto questo dello Swarovski. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ok. Questo c'era dentro. E dentro invece... Praticamente c'era questo orsetto. Con il segno zodiacale. Del... Come si chiama? Dell'acquario. Perché io sono acquario come segno zodiacale. Allora, dato che si vede male. E non si vede tanto bene. Ovviamente poi vi lascerò la clip dove si vede bene qua. Di fianco. Così lo vedete. Perché... È molto molto bello. È fatto così. Vabbè. Poi vabbè. Se non si vede bene... Lascerò di fianco tutte le clip. E questo è stato l'altro regalo. Poi... Andiamo avanti. Ho ricevuto questo. Che praticamente è un completo del letto matrimoniale della Bassetti. Fatto così. Ho lasciato... L'ho lasciato impacchettato perché lo volevo far vedere. Ma dopo... Lo metto sul letto. E vi faccio vedere... Ovviamente sempre qua... La clip come sta sul letto. E ve lo faccio vedere sul letto come sta. Comunque è tutto colorato. Poi... Passiamo a questa cremina. Che praticamente è la crema mani e corpo. Che me l'ha regata il mio miglior amico. Che è questa qui. È molto profumata. Ha un buon odore. È naturale al 100% perché la fanno loro. E ovviamente viene da Tramonti Salerno. Questa qua. Poi vado veloce perché ce ne sono un bel po'. Dentro il sacchettino della Sephora. Che è molto carino. Qua c'è ancora il bigliettino. Che non posso farvelo vedere. Per cose private. Qui. Troviamo. Questo. Allora dentro il sacchettino della Sephora. C'è questo pacchettino. Fatto così. Lo apriamo insieme perché sinceramente non l'ho visto. E non so neanche che prodotti ci sono. Allora sono tre prodotti della Cotton Flower. E questo è il problema che è scritto in africano. Per cui sarà complicato capire che cos'è. Allora. Questo qui. È per il corpo. Latte corpo dovrebbe essere. Questo. Questo è un marchio che l'avevo visto anche da una youtuber che le usa anche lei. E poi c'è questo che sarà la crema a mani. Se non mi sbaglio. Questa è crema a mani. Poi c'è il latte corpo. Questo è di 50 ml. E invece questa è di 200 ml. E invece questo è bagno doccia. È di 260 ml. Non sono male come... Cioè poi li proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. Poi ho ricevuto questi due. Molto carini. Fatte così. Fatte a mano. Perché qui c'è un ragazzo che ha un negozio dove li fa le cose a mano. Adesso molto carine. Uno è l'angioletto. Fatto così. Proprio li fa lui. Invece l'altro è Babbo Natale con scritto Buon Natale. Ed è molto molto carino. E mi hanno regalato questo. Poi passiamo a questo sacchettino della Stroili. Dentro questo sacchettino. Questa bella schiatoletta. Ovviamente c'è questa collana. Che sarà difficile farvela vedere. Comunque è così. Molto carina. Che mi hanno regalato. Non la tiro via. Perché tanto non riuscite a vederla. Ve la metterò ovviamente qua nella clip. E vi farò vedere da vicino come è fatta. Comunque è bellissima. Poi passiamo a questo regalo qua. Che ho venuto da giustare la carta. Allora in questo pacchettino c'erano due regali. Uno è questo. Praticamente con questa scatolina carina. Con il cuore. E dentro c'era confezionato così. In questo sacchettino. Perché Adesso ok. C'era dentro Questa collana Di bigiotteria. Fatta così. Con due cuori. Ovviamente io sono un po' allergica alla bigiotteria. Per cui la terrò per ricordo. Perché Non posso mettere bigiotteria. Dato che sono allergica. Però È molto bello. Come regalo. Poi passiamo al secondo. Che era insieme a quello. C'era praticamente questa confezione. Della Royal Beauty. È la stessa marca che io ricevo ogni anno. Quando praticamente Come vedete dietro nell'albero. C'è una Stella E una pallina Bella grande E praticamente ogni anno Natale Ricevo sempre questa marca qua. Non è male come marca. Perché è buona. Adesso lo vediamo insieme. Perché l'ho lasciato così. Non l'ho ancora aperto. E ovviamente Adesso Vi faccio vedere cosa c'è Dentro Lo apriamo insieme Era così la confezione E dentro c'è questa sfera Che io pensavo che era tipo di vetro Invece è di plastica Per cui non posso neanche utilizzarla E è fatto così il completo C'è praticamente la matita Il rossetto Poi un glit per corpo Lo smalto E una palette mini Di ombretti Con ovviamente Il pennellino L'apriamo L'apriamo Vabbè è di plastica Per cui non credo che Serve Ok Allora Lo smalto Ok Non riesco Mi è caduto Tutto C'è il pennellino Non so perché La matita Nera Fatta così piccolina Che io le uso sempre Queste cose Il rossetto Che è difficile tutte le volte Levarlo però È fatto così Io amo il rossetto rosso Come vedete Comunque non li swatcho Ma ve li swatcherò Nel vlog Perché sennò Questo video dura Infine Per cui Ve li swatcherò Nel vlog Comunque Sono questi Poi c'è Questo Con questi colori qua La palette E per finire Abbiamo i glitter Che non ho capito Perché sono così Quei così liquido Comunque glitter Per corpo Che è questo E per finire Lo smalto Rosso Per cui Se volete vedere Le swatch E se scrivono Dovete Ovviamente Seguirmi Che così Nel vlog Vi faccio vedere Swatchato il tutti Perché abbiamo Altri regali E sono 20 minuti Che registro Per cui Andiamo più veloce Allora Poi Ho ricevuto Questo Questo maglioncino Blu Fatto così Questo maglioncino Blu Bello Morbido Ovviamente Vi metto anche qua La clip Questa È Cashmere 100% Che si sente Perché È Molto Molto Bello Della Rose Amy Comunque Vi metto La clip Dove Indosso Questo Maglioncino Bello Morbido E Finalmente Posso Indossarlo Perché Ho Aspettato A farvelo Vedere Così Almeno Possiamo Indossarlo Comunque Ho ricevuto Questo Qua Che Molto Carino E Mi sta Anche Bene Anzi Ho Notato Che Blu Mi sta Veramente Bene Poi Ho Ricevuto Questa Maglietta Ripeto I vestiti Li Vedete Tutti Indossati Mi sto Impaffinando Comunque Questa Magliettina Di questo Colore Che amo Ed è Bellissima In maniche Corte Fatta Così Allora All'inizio Sembrava Troppo Larga Ma Invece Il modello Fatto Così Per Cioè Vedendola Nella clip Calcolate Che Mi sta Bene Per cui Questa Invece Della Dranella Sono Praticamente Tutte Marche Che Costano In poche Parole E Sono Queste Qua Dranella Se Non mi Sbaglio E Mi piace Troppo Questo Colore È Troppo Bello Poi Scusate Se Fado Veloce Ma Sono Poi Ho ricevuto Questa Maglietta Della Polo Come Vedete Della Polo E C'è qua Il Cavallino È Bianca Sì Sono Stropicciate Perché Sono Lì Messe Un po' Comunque Fatta Così Semplice Bianca Della Polo E Ovviamente Ve la Faccio Vedere Anche Qua Indossata Vi Faccio Vedere Anche Il Cartellino Che È Questo Perché Ho lasciato Anche Il Cartellino Comunque Molto Bella L'unica Cosa Che Dato Che Bianca Io Col Bianco Ci Vado Sempre A litigare Anche Perché Mi Sporco Facilmente In poche Parole Poi Ho ricevuto Anche Quest'altra Magliettina Fatta Così Grigia E Questa È Della Kenso Praticamente C'ho Il Coso È Della Crenso Anche Questa E C'ha Il Disegno Con Praticamente La Tigre Con La Scritta Anche Questa Ve la Faccio Vedere Indossata E Per Finire Che È L'ultimo Regalo Meno Male Perché Questo Video È Durato Anche Troppo Che È Questo Qui Questo Dato Che Non Sapete Cos'è Ovviamente Vi Metterò La Clip Qua Di Come Funziona Praticamente È Un Tè Particolare Che Sono Delle Piante Che Adesso Lo Apro Ve lo Faccio Vedere Infatti Adesso Vi Faccio Vedere La Clip Dove Mettete L'acqua Calda Bollente Dentro Questa Adesso Il Nome Comunque Dentro E Prendete La Piantina Che Ve la Sto Facendo Vedere E La Mettete Dentro Dopo Due Minuti Tre Minute Adesso Non So Bene Quanto Credo Di Meno Piano Piano La Piantina Cresce E Fa Questo Questo Tè In Poche Parole Ci Sono Tante Piantine Che Ovviamente Vi Farò Vedere Nel Video Cioè Sia Nel Vlog Che In Questa Clip Vi Farò Vedere Come Funziona E In Più Vi Dirò Come Il Gusto Perché Ancora Lo Devo Provare Comunque Dentro C'è Questo Libricino Fatto Così Però Non So Se Si Vede E Dietro Ci Sono Tutte Le Piantine Ce ne Sono Altri Questo Qui Lo Trovate Su Amazon Perché Ovviamente Mi Sono Informata E Anche Questo C'è Da Dentro Lo Trovate Praticamente Su Amazon Se Siete Interessati Dentro C'è Questa Che Non Mi Ricordo Come Si Chiamate Mi Viene Il Nome Di Vetro Che Infatti Devo Stare Attenta Perché Si Può Roppere Questa Qui È Di Vetro C'ha Il Coperchio Ed È Molto Bella E Ovviamente Qua Dentro Ci Mettete La Piantina Adesso Lo Metto Lì Se Non Si Spacca Perché Dentro Qua C'è Sempre Questo Bigliettino Dove Ti Dice Come Funziona Ci Ci Vogliono Dieci Minuti Ci Vogliono Dieci Minuti E ci Sono Le istruzioni Di Come Ovviamente Prepararlo Dentro In questa Scatolina Trovate Praticamente Tutte Le Piantine Che Adesso Ve ne Faccio Vedere Una Perché Sono Diverse E Si Sono Tutte Diverse E Dentro Trovate Queste Fatte Così Voi Le Aprite Le Mettete Dentro L'acqua Bollente E Praticamente Vi Fa Il Tè Ma Vedete Anche Questa Bella Piantina Che Spunta Nell'acqua Che Cresce In poche Parole È Un Regalo Un Po Particolare Perché Quando L'ho Visto Ho Detto Ma Cos'è E Poi La Fine Ho Ho Visto Che Era Una Bella Cosa Che Mi Piaceva Dato Che Mi Piace Il Tè E Niente Credo Che Ho Fatto Vedere Tutto Sì Non Dovrebbe Mancare Niente Fatemi Sapere Quali Regali Vi Sono Piaciuti E Quale Voi Avete Ricevuto Noi Ci Vediamo Al Prossimo Video Perché Questo Video Già Durato Fin Troppo Per Cui Ci Vediamo Al Prossimo Video Ciao